Siamo oggi qui nella Galleria dei Presidenti di Palazzo Montecitorio che come sapete ospita non solo i ritratti dei Presidenzi della Camera dei Deputati del Regno d'Italia e della Repubblica ma anche in ordine cronologico quelli dei Presidenti dell'Assemblea eletti negli Stati italiani preunitari a partire dal 1820. Proprio il 1 ottobre 1820, dunque 200 anni fa, si riuniva per la prima volta il Parlamento delle Due Sicilie. A presiedere la seduta inaugurale fu il rivoluzionario repubblicano Matteo Galdi. In occasione del bicentenario del Parlamento delle Due Sicilie abbiamo deciso di ricollocare il suo ritratto nella posizione che gli spetta, quello cioè di apertura della Galleria dei Presidenti di Palazzo Montecitorio. La scelta di includere in questa raccolta di ritratti anche i Presidenti delle Assemblee parlamentari preunitarie ha reso questa Galleria monumentale, progettata da Basile, pressoché unica rispetto alle analoghe collezioni dei ritratti dei Presidenti presenti nelle serie di altri Parlamenti del mondo. La Galleria dei Presidenti testimonia così la continuità delle rappresentanze politiche del nostro Paese in tutte le sue componenti territoriali. Con questa cerimonia e con la pubblicazione di uno speciale volume curato dall'archivio storico, la Camera dei Deputati si unisce alle celebrazioni del bicentenario del Parlamento delle Due Sicilie del 1820-1821, che proseguiranno domani a Napoli e alle quali prenderò parte. E' questo un modo per ribadire che il Parlamento è anche un'istituzione culturale, come ho rivendicato assumendo la Presidenza all'inizio della diciottesima legislatura. Vi ringrazio. Grazie.